È stato messo da parte ma mica neanche tanto, nel senso che noi anche nel recente piano degli investimenti dei prossimi anni in campo sanitario abbiamo rifinanziato l'ospedale unico di Buste Gallarate, una delle priorità e uno dei grandi interventi che noi ci riserviamo di realizzare, quello, gli interventi ai Santi Paolo e Carlo, su Milano, l'ospedale di Cremona e poi una serie di altri interventi. Non dimentichiamo che complessivamente sono 4 miliardi di Euro messi a disposizione del territorio per migliorare in maniera ulteriore la nostra rete di offerta sanitaria.